La froscolina è un principio attivo che si trova all'interno del coleus froscoli, una pianta da sempre conosciuta in farmacognosia. È consigliata a chi deve migliorare le proprie funzioni digestive e deve riequilibrare il proprio peso corporeo. In che senso? Proprio nella sua capacità di migliorare l'assorbimento dei cibi e il metabolismo dei cibi, riesce ad aiutare l'individuo che l'assume a normalizzare il proprio peso corporeo.